Paolo Mazzoleni, arbitro internazionale classe 1974 della sezione di Bergamo, è stato l'ospite d'onore di una bella serata organizzata dall'AIA di Cremona. In una sala zenoni gremita, i giovani iscritti alla sezione, presieduta da Gian Mario Marinoni, hanno seguito con grande attenzione il racconto della sua vita da arbitro dagli inizi alle esperienze internazionali, condite di consigli, aneddoti, emozioni. Ogni anno è fondamentale per un arbitro e l'importante è partire in modo deciso in ogni stagione, ha rivelato ai giovani fischietti e il miglior osservatore di un arbitro è l'arbitro stesso che deve imparare a fare autocritica. Mazzoleni, alla 14esimo anno di Serie A e vicino alle 200 gare dirette nella massima serie, ha spiegato quanto sia importante curare i propri limiti sotto tutti gli aspetti, sia fisici che caratteriali. Allenarsi bene e soprattutto imparare a conoscere perfettamente il regolamento in ogni sua parte perché gli episodi che capitano sui campi dei dilettanti sono gli stessi che avvengono in Serie A, cambiano solo gli aspetti mediatici ma non le situazioni. Sarebbe per me già un grandissimo regalo aver portato entusiasmo che è la cosa che a noi serve perché l'arbitro è una persona, uno sportivo assolutamente normale che ha bisogno di entusiasmo, di emozione, di capire il valore della passione. Per cui aver portato una ventata così di freschezza, una ventata di entusiasmo e di passione vorrebbe dire aver fatto una serata importante. Schietto, diretto, disponibile, ha risposto anche alle domande della platea sui più svariati argomenti e raccontato la sua esperienza diretta con Cremona quando un ragazzino seguiva le partite della Cremonese a Lozzini. Sì, sono venuto diverse volte per cui ho sempre avuto questa simpatia per la Cremonese del Luzzara, di questo presidente unico direi, per cui una città che comunque torno sempre volentieri, una città della mia regione, una città a cui auguro di avere tra qualche anno un arbitro importante, ma non tanto per l'arbitro importante quanto perché è un motivo di traino poi per tutti questi ragazzi giovani.